Ehi ragazzi, bentornati tutti con Super Mario Galaxy 2 Forse per voi molto probabilmente non è passato molto tempo, ma per me è passato un sacco di tempo In quanto ho dovuto registrare anche le altre let's play E quindi tipo, adesso sto provando un po' i tasti perché non mi ricordo più Cioè mi fa anche strano portare, tenere in mano il joystick della Wii Pensate un po' come mi sono messo male, allora non mi ricordo cosa ho fatto dall'altra parte però Abbiamo 50 super stelle E mi sembra anche un buon traguardo Ok, forse avevamo scoperto il mondo 4 Oh, sì, che bello Galassia colossale, wow Si parte già col botto Adoro questa galassia, davvero Grandi torci bruchi per grossi guai Oddio L'adoro, l'adoro, l'adoro Già dall'introduzione dovreste aver capito qualcosa Eccoci qua Oh, con la musica Tipo la galassia blocco I galassi 1 Guardate quanto sono grossi Cioè tipo Tipo solo lo sfaldotto Qui tutto è enorme, fai attenzione Cioè sono Cioè Guarda Che cacchio è finito Perché si è mangiato Sfavillotto Oh Che cacchio Che glitch Ok Comunque Guardate quanto È abnorme Guardate un po' anche su un bumba Ok Si sconfiggi normalmente, no? Perché saltando in testa, no? Però si sconfigge Come una pioretta Comunque qua dovete fare i salti Dovete imparare A fare i salti lunghi Perché sennò Non sopravviverete Per molto tempo Guardate Tipo sta moneta finta Perché è finta Non si prende Serve solo per Per il muro a parete Per scalare un cubo oggetto Che tra l'altro Non potete neanche prendere Poi guardate Guardate i tubi I tubi sono abnormi E dentro hanno delle piante di regno Abnormi Vi dovete Ecco Vi dovete stare sul tubo No Vi dovete stare sul bordo del tubo Altrimenti Non potete salire Corri veloce Sì perché dovete fare il salto Lungo Bel salto Grazie Oddio Che cosa sto facendo Sono handicappato Stavo andando al suicidio Partendo Ok Qui fermatevi E salite Se solo Solo scalare Uno di questi pump È È un'impresa Qui dovete arrivare lì dentro Però prima c'è Questa Oh I cupa Oh Questo me lo ricordo Ok Diciamo che Ho Ho 99 vite assicurate Ho 99 vite assicurate Perché c'è un glitch O un bug O non so cosa Che Ecco Se adesso riesco a farlo Grazie Mo muoio E faccio Dovete salire Dovete saltare Sul guscio Del Fortuna che C'è il checkpoint Lì di fianco Dovete Dovete Praticamente Riuscire a saltare Sul guscio Del cupa E continuare a saltare Cioè Saltare lì sul guscio Olì E avrete vite Fino a 99 Quindi io tipo Adesso sto qua un po' Non arrivo a 99 Perché tanto A 99 vite Non succede nulla Quindi Non c'è bisogno Tanto Appena spegnete Ricomincia da capo Quindi Arrivo tipo a 50 se ci arrivo Non ci arrivo Basta così Basta così No Non voglio 50 Cattivi Ok Qua si è glitchato Tutto un minuto il pezzo Ma No bene Prendiamo quella trottola E Facciamo Ok comunque Per andare avanti Dovete Uccidere questi cupa Per ucciderli Dovete Travolgerli No Ok Ti si è salvato Per ora Bene Erano abnormi anche quelli Quanti vite ho preso? Non ho visto 30 Ne ho 34 Guardate Guardateli I pezzi di stella Di stella arancio Guardateli Stavillotto Cosa c'è da dirci? Le pirouette funzionano anche con quei tipi grossi Eh L'ho scoperto così Ma grazie per avermi usato Ok Oh Oh Ma che sfiga Sì Questa è sfiga però No Da qui Oh ok Perfetto Ah c'erano più di un checkpoint Meglio Vediamo se glitcha Con più questo Eh sì Oh però Mi prendo Cos'è sta scherzo E glitcha Madò Non mi puoi fare No Non mi puoi fare Si ritira una star scheggia Cos'è Ha preso un moscerino Mentre volava Grazie Mamma mia Sono No Io l'adoro Non ci posso fare niente Qui ci sono munizia Non mi ricordo male Yes 37 hit abbiamo Bene Direi che siamo praticamente sistemati per tutta la sera Ehi calmo Sarebbe stato fantastico Se tipo avessero messo Una specie di remake Di questa canzone Però tipo Tu 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 Più 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 grossa No va bene Cagata Sarebbe stato fantastico Attenzione alle piattaforme giganti Oddio Me la sono vista brutta Ok comunque lì ci ritorneremo Su quel pianetino Adesso vi farò anche vedere il perché dopo Cioè Cosa sto dicendo Adesso vi farò anche il perché Dopo Vita Guardate quanti sono i torci bruci Fan paura Due quelli erano arrabbiati Nooo Cosa è successo Nooo Bene Mi c'è la super stella Bello Andiamo a finire Non mi servono le monete Yes Fantastico Adesso ci ritorneremo Perché avete visto quel pianetino Che vi ho fatto vedere Che vi ho detto che Rivedremo Dobbiamo andare lì su quel pianetino Appunto Credo Oddio Sapete che non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Sì No forse è in quello Ok Comunque cometa burlona La cosa di lava di Balder Che non mi ricordo neanche Dov'è Non mi ricordo No Direttore non mi ricordo neanche più Le Cosa sono le comete burlone Cosa che sono le comete burlone Oddio Non lo so Comunque Vi taglio il pezzo Ci vediamo Al coso lì Del pianetino Ok Dunque Se voi adesso Vi lasciate cadere In questo pianetino Vedete che appena Mario Tocca il suolo Crescono dei fiori Vedete che Continueranno a crescere I fiori Bene Avrete forse Già capito Che ci dovete fare Dovete Far crescere I fiori In questo pianeta Cercate di prendere Se volete Prendete tutto Comunque Dovete far crescere Tutti i fiori Di questo pianeta Mi raccomando Non dovete mancare Neanche un Piccolo pezzo D'aria Ok E una volta Fatto Tadà Liana Che vi porta Alla Astro Superstella Che è una Superstella Senza astro Olè Come già scariche Oh Ma fai davvero Le ho ricaricate Tutto oggi Donnato Faccio Faccio già il cambio Va Non voglio rischiare Interruzioni Random Fai vedere Boh Queste dovrebbero Reaggere Ci guando Due Superstelle Molto bene Ok Prima Di andare Da Bowser Prima di andare Da Bowser Faccio Questa Che avevamo Sbloccato Con il Quello che mangio L'estroschegge Dai Il bagarozzo Ciccione Frutti Frutti gialli Su misteriosi biscotti Galassi Dolce Mistero Oh Oh Yoshi Oh Oh Me la ricordo In parte Però mi ricordo i biscotti Non so Vabbè si Ciambelle ci sono Però no Mi ricordo proprio i biscotti Yoshi Andiamo Oh Oh Oddio Calmi Bastardo Volevi far ammazzare Già all'inizio Comunque Potenziamento Frutto giallo Che non so il nome Andiamo Lì potevate passare Una specie di scorciacoglie Credo Oh 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 Chiodati Ok Comunque Cosa dovete fare Dovete praticamente Fare questo percorso Il problema è che Se non avete la lampada Alcuni percorsi Non saranno visibili Ma non Non è che Non sono visibili Che non li vedete Proprio Non esistono Se non avete la lampada Non esisteranno neanche Questi Non esistono Eh se non apre刚 1 Oh 2 Prende Mac 3 O Porco No 2 Cosa ose Il Perde Chega O Oh Con calma Con calma che non muore nessuno Se Muore No vabbè Muore Vabbè Dai Ok Andiamo Lentamente Lentamente Ah da notare che Da notare che Alcuni Alcuni oggetti Appena ottenuta la Appena ottenuta la Oddio pannelli Appena ottenuta la La lampada Diciamo lampada Chiamiamola lampada Appena ottenuta la lampada E diventano delle robe dolci Tipo biscotti In questa casa E basta Non ero pronto a suicidarti Yoshi Siamo ancora amici Siamo ancora amici Vero Dov'è il pannell Oh quello lì Yoshi No madonna Vai Esci Allora Primo Secondo Ultimo Oh in mezzo Oh in mezzo Proprio in mezzo Ce la devi mettere Oh Yoshi Ah beh Ci arrivi Tanti auguri Con tante di candele Oh oh Ok Dovete scalarla Entro Fortuna che c'era il Temo C'era il salvataggio Dietro Aha T'ho trovato Quel bagarozza Là sopra Non ci arrivi Però Yes Sospesi nel vuoto Prendiamo la super stella Wow che bello Era troppo tempo Che non giocavo Galaxy 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 Noi percorsi per la strana Ok ci ricolli Oh Ti già Che dite L'andiamo a fare